L'Ospirato di Luciano Fabro Sui bracci del transetto si aprivano originariamente quattro cappelle. Quelle del lato nord sono crollate. Le due visibili ancora oggi invece ospitano le opere di Luciano Fabro e di Giulio Paolini. L'Ospirato di Luciano Fabro è un'opera estremamente suggestiva, realizzata dopo un lavoro di ricerca e indagine sulla materia, durato cinque anni. Attraverso questo calco in gesso, l'artista ha tentato di dare forma al vuoto lasciato da un corpo umano che si è sfilato. La testa non è più visibile, ma permane l'evidenza plastica sotto il lenzuolo. Esplicativo è in tal senso il titolo completo dell'opera. L'Ospirato Io rappresento l'ingombro dell'oggetto nella vanità dell'ideologia. Dal pieno al vuoto senza soluzione di continuità. Fine dell'autore è quello di creare una contrapposizione tra una lettura puramente visiva e una lettura conoscitiva dell'opera. Una lettura puramente visiva ti consentirà di percepire solamente il lenzuolo, ma una lettura conoscitiva ti stimolerà a domandarti cosa si cieli sotto di esso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.